ciao e benvenuti in un nuovo video con questo meraviglioso cerchietto che fa molto makeup perché oggi di makeup parliamo con la nuova box in edizione limitata di asos come sempre i video di asos sono in collaborazione con loro queste box sono in edizione limitata ed racchiudono vari prodotti che a differenza degli altri beauty box quindi i prodotti ve li dicono quali sono quindi li potete scegliere solamente se sono quelli che vi piacciono quindi non è una box in abbonamento o altro è un set in edizione limitata di prodotti racchiusi per un unico scopo ad esempio questa tema makeup abbiamo già visto in passato altre box simili vi potete fare idea e scegliere se acquistarlo oppure meno ma non è un abbonamento acquistate tranquillamente l'unica cosa è che quando arrivano disponibili in italia sono sempre in numero molto ridotto e quindi spesso sono sold out al che va messo nei desideri aspettando notifica per avvisarvi che mettono intanto in restock qualche 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 pezzo a diversi pezzi e niente oggi la guardiamo questa che ha un prezzo di 13 e 99 e dovrebbe avere diversi brand di makeup io dato che me l'hanno inviata non so assolutamente che cosa contiene e l'apriamo insieme così ce ne facciamo un'idea è questa tutti i prodotti sono in formato vendita quindi reperibili anche tranquillamente sui vari store e abbiamo visto già diverse volte che sono riparibili anche su look fantastici allora prima di tutto vediamo questa che è la cartolina di asos in body che spiega poi dei prodotti e poi l'apriamo ok e si presenta così andiamo a vedere che cosa contiene ma io già vedo sto girandola per vedere i marchi ma già dico affero affero abbiamo già visto altre volte che uno o due prodotti fanno tutta la box come prezzo come valore io partirei da questo che charlotte tilbury matte revolution luminos modern matte long lasting lipstick rossetto labbra lunga durata allora temo che questo sia il formato in vendita questo è proprio un campione ma ci sta perché charlotte tilbury stavo cercando il colore prima di aprirlo che non trovo apriamolo e sto allora il colore è più piccolo non potevo pillow alla classica forma e da borsetta per ritocchi è anche un bel colore è un bel colore a me questo piace sinceramente piace molto e sono contenta intanto lo mettiamo qui non so la la quantità è sicuramente un ah ce l'ha scritto pillow of talk perfetto però è bello charlotte tilbury non sbaglia mai andiamo con invece questi vedo che è un mini size ma formato vendita questo è il 24 ore brown setter di benefit e penso che già questo abbia un valore superiore alla box è il fissante per sopracciglia adesso lo apriamo eccolo qua e questo è il classico fissante fatto così trasparente per fissare le sopracciglia con la spatolina in silicone con l'applicatore in silicone che dire benefit che dire benefit andiamo avanti ma perché sto mettendo qualche rotolo mettiamoli di qua con un altro travel size questo è drama bomb è un mascara nutriente da 6 ml quindi un mini size formato vendita che io mi faccio vedere perché io questo brand assolutamente non lo conosco bello ok con la classica forma a clessidra quindi ci può piacere questo lo andremo a provare sicuramente volume si ok ok questo ci può piacere restiamo agli ultimi due prodotti perché qui abbiamo di slick slick la troviamo spesso e non capisco fiers filth liner è un eyeliner in filtro ok fatto così si è un eyeliner a pennarello bello nero molto nero molto nero un po liquido molto nero molto bello da provare su come si comporta tutto il giorno ma la linea a ecco cosa che sto guardando dove c'è più prodotto un po si allarga vediamo ho fatto delle righe piccole e vediamo che sarebbero le linee classiche che uno fa sull'occhio ed effettivamente si allarga quindi attenzione che è molto bagnato a questo punto io andrei a rimuovere tutto con le mie mitiche salviette della neve a niente male devo dire ecco cosa che posso dire è che slick non viene via benissimo bisogna calcare un pochino ma ok perché andiamo a vedere l'ultima cosa aiuto capello palette x x revolution crystal x shadow palette che è chiusa ok ed è la quartz a questo punto direi andiamo a vederla perché non la conosco ok wow bellissimo proprio siamo un pezzo di quarzo sopra bella allora bella è tutta glitterata ha la plastica sopra sì quindi adesso andiamo a fare così e ve la mostro ma adesso la svolciamo anche quindi ok e andiamo ovviamente a swatchare tutti questi no ma è luce ragazzi questa è attenzione perché il viola è cremoso guardate che è successo molto cremoso quindi andateci piano se ne vogliamo parlare cioè per me è stupenda per adesso ma andiamo avanti aspettate che con una mano cerco di pulirmi per non andare a falsare i colori ok sono tutti abbastanza cremosi alcuni di più altri un po' meno l'ultimo non si vede tanto ma da un bel bagliore colorato ok finiamo di pulire faccio gli ultimi e poi dopo cerco a rispostare le luci in modo da mostrarvelo bene lascia molti brillantini devo dire ok allora le ultime sono uno due e tre e li metto al laterale vogliamo parlarne allora finisco di pulirmi tutti glitterati tutti molto belli hanno vanno bene secondo me anche come mamma mia sto facendo un poccio ok forse è il caso che prendo un'altra salvietta aspettate perché questa formula cremosa resta anche sulle salviette ok 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 allora avviciniamoci questa è la palette e questi sono i colori ovvio che siano così luminosi perché sono tutti glitter però molto bella non me l'aspettavo ma davvero molto bella allora fatemi sapere mentre io finisco di pulirmi quali di questi prodotti vi sono attirato di più quali vi hanno incuriosito io devo dire che sono tutti tranne penso la palette sono tutti mini size va bene anche le eyeliner che però è bello resistente e soprattutto molto nero anche se attenzione a dedosarlo perché è molto liquido anche forse va mescolato un po' prima intanto sono riuscita a togliere tutto e poi cosa abbiamo allora vediamo la palette ok poi abbiamo questo mascara che non conoscevo il 24 ore di benefit per le sopracciglia l'eyeliner e questo micro roscetto ma è Charlotte Tilbury che dire posso dire niente per la qualità e basta non c'è nient'altro niente fatemi sapere che cosa ne pensate se quali prodotti vi incuriosiscono di più scusate ma questo pack cioè guardarlo così è fantastico ho un pezzo di quarzo ed fatemi sapere se a qualche po' ti vi ha incuriosito se vi interessa qualcosa io proverò sicuramente il mascara e testerò meglio la palette gli altri rossetto è garantito e il benefit lo conosco già ed è molto valido niente io vi do appuntamento come sempre al prossimo video ciao ciao